Vi daranno degli spunti, il mio obiettivo è questo. Mi chiamo Federico Badaloni e lavoro da 15 anni nell'unità di architettura dell'informazione, cioè l'unità che si occupa della progettazione concreta dei siti e delle applicazioni del gruppo. Domande a cui rispondiamo sono domande del tipo che succede quando clicchi qui, che succede quando l'utente cliccherà di qua, perché questi due contenuti stanno vicino, perché questi sono lontani, come si fa a raggiungere questo. In pratica lo schema è capire gli obiettivi editoriali, giornalistici, che ci vengono dati da un vettore di spinta, capire gli obiettivi di business che ci vengono dati da un altro vettore di spinta e trovare una mediazione nella concretezza dell'oggetto che stiamo andando a progettare. Gruppo Espresso ha un sacco di testate, come sapete da National Geographic, Repubblica IT, Limes, e quindi nel corso del tempo ho potuto vedere che esistevano delle prassi utili in tutti i casi, delle cose che ricorrevano. Ho pensato di organizzare questo intervento proprio sulla base delle invarianze, cioè di quello che ho capito che sono dei punti di snodo sia se si sta progettando un sito giornalistico, sia se si sta progettando il sito per il supermercato qui davanti. Come è costruito questo incontro? Io l'ho costruito in tre fasi. Una prima fase che durerà più o meno mezz'ora, in cui devo porre delle basi, che ci servono perché non conosco il vostro livello, immagino che sia eterogeneo, e quindi ho bisogno di trovare un linguaggio comune, una coine di concetti. Finita questa prima fase, e ovviamente chiunque di voi può interrompermi quando vuole, se non sono chiaro e andare più a fondo, comincio ad entrare proprio nel pratico di come funziona passo dopo passo la progettazione di un sito. Non è un seminario tecnico, userò dei concetti che sono concreti, e se vi sembrano astratti vuol dire che c'è qualcosa che non va, quindi fermatemi perché invece l'obiettivo è mettervi proprio nelle condizioni di progettarlo. Progettarlo vuol dire, cioè l'architettura dell'informazione ha usato questa metafora, noi siamo gli architetti, quindi un architetto progetta un ambiente dove devono avvenire delle cose, è diverso progettare un ospedale, è diverso progettare da un supermercato, o un appartamento. Dopodiché ci sono i tecnici, cioè gli operai, i pittori e così via, che dovranno realizzare questo artefatto. In realtà è una metafora che è un po' stretta, soprattutto perché gli oggetti che costruiamo oggi in realtà sono oggetti destinati a cambiare, ad essere dinamici, mentre nell'architettura tradizionale gli oggetti che vengono fatti sono statici. Però al di là di questo serve un po' a capire la differenza. Io sono un giornalista, sono un laureato in antropologia culturale, quindi non sono un informatico, e ho imparato alcuni concetti che mi servono proprio per parlare con gli informatici. Diciamo che il grande presupposto di questo incontro è che quello a cui stiamo assistendo, quello in cui siamo immersi, non è una rivoluzione, non è un fatto tecnologico, è un fatto culturale. E su questo assunto si basa la prima mezz'ora. Nella seconda mezz'ora appunto percorreremo praticamente la costruzione di un sito, quali sono i passaggi chiave, e poi io vorrei dedicare l'ultima parte ad un laboratorio vero e proprio. Vi vorrei dividere in gruppi, e vorrei che ogni gruppo provasse a esercitarsi su un caso che non svelerò, ma svelerò alla fine, cioè su una cosa concreta, su un esercizio concreto, e poi l'ideale sarebbe scambiarci un po' di pareri su perché avete preso delle scelte di progettazione e perché delle altre. Chiaramente si tratterà di un percorso che vuole essere un po' emblematico perché abbiamo poco tempo da passare insieme, speriamo di riuscire a fare tutto quanto, e quindi partiamo ufficialmente. Dunque, sempre di più, queste sono tre slide dedicate soltanto alla materia, cioè l'architettura dell'informazione, che in Italia si chiama così, si chiama così anche all'estero, information architecture, ma all'estero viene anche chiamata user experience design. Noi in italiano non l'abbiamo chiamata progettazione dell'esperienza utente perché ci è sembrato che potesse sembrare un po', ecco, così, un modo che poteva dare l'idea che volevamo fare un po' quelli, gli americani, eccetera. Ci sembrava un po' più concreto l'architettura dell'informazione. Comunque sì, al di là del dibattito epistemologico, user experience design, cioè la progettazione dell'esperienza che l'utente farà quando incontra un'informazione, e l'architettura dell'informazione sono due aspetti della stessa medaglia, potete considerarli la stessa cosa. Sempre di più oggi, l'informazione non si incontra su un monitor, ma, diciamo, in un computer aperto, un desktop o un portatile come quello, ma si incontra sparpagliata negli ambienti che viviamo. Perché? Perché la rete innerva gli oggetti della vita quotidiana, innerva i muri, innerva, non so, se state in una stazione, vedete un pannello luminoso e questo pannello proietta delle immagini. A Roma le palline degli autobus sono collegate alla rete e vi dicono quando arriverà il prossimo. Di conseguenza la rete è reale, il reale è fatto anche di rete. Le due cose sono commiste, non esiste una, anzi nasce alienazione proprio quando la rete viene vissuta come un'altrove, che ha i suoi popoli, le sue tribù, le sue regole, noi però siamo di qua, non siamo quelli che... Ecco, tutto questo è alienazione perché in realtà oggi sempre di più ci accorgiamo che la rete è nelle nostre tasche e nei muri ed è nella vita di tutti i giorni. Di conseguenza il ruolo dell'architetto informazione è proprio quello di fare in modo che un oggetto informativo, un atto di comunicazione, resti fedele a proprio significato, cioè resti fedele a se stesso, anche se appare in contesti diversi perché progettiamo proprio in funzione del fatto che possa viaggiare ed apparire in contesti diversi. Questa è una delle differenze fra un oggetto fatto bene e un oggetto fatto male oggi. L'oggetto fatto bene è un oggetto che può viaggiare, è un oggetto che ha le ali. Un oggetto informativo fatto male è un oggetto che sta lì e non ci puoi far nulla, cioè puoi soltanto visualizzarlo in quel posto, in quello spazio-tempo, su quel device. Quindi progettiamo l'interazione dell'uomo con l'informazione. Prima facevo cenno al fatto di dire ma quando clicco lì che succede? E quest'altro che succede? E tutto questo ha molti specialisti all'interno della nostra disciplina che sono, alcuni sono talmente bravi che fanno solo questo di mestiere e fanno interaction design. E magari sono quelli che fanno sì che una procedura di acquisto di un bene online sia più semplice e possa essere fatta in due click invece di 25. Tanto per fare un esempio. Adatta le informazioni ai contesti progetti e processi di produzione dell'informazione. Capite già che per noi l'informazione non è funzionale a un medium. Cioè la nostra domanda non è quante righe ho o quanto tempo ho. La nostra domanda è come faccio per fare in modo che questa cosa diventi una riga, diventi un suono, diventi del tempo e rimanga fedele al proprio messaggio. E spero di riuscire a spiegarvi nel concreto cosa vuol dire. Quindi di fatto noi siamo preoccupati di garantire l'integrità strutturale del significato nei diversi contesti. Perché strutturale? Perché, come vedremo, il significato viene espresso oggi in un ecosistema digitale dal particolare tipo di relazione che riusciamo a cogliere in diversi elementi dell'informazione. Una volta mi sono imbattuto in questa splendida frase di Schlossberg che dice l'abilità di chi scrive è creare un contesto in cui altre persone possano pensare. Ecco, io ho subito immaginato che in realtà era una definizione perfetta per il nostro mestiere perché quello che facciamo è creare dei contesti appunto come è un sito in cui qualcun altro possa pensare. Possa pensare perché questo pensare lo porta ad un obiettivo conoscitivo o d'azione addirittura. Ci sono dei siti che servono per fare la spesa e quindi acquistare qualcosa e dei siti che servono per capire qualcosa. Quindi l'architettura di informazione può essere pensata come un'infrastruttura che serve per pensare delle relazioni in termini relazionali. Ora, quello che resta perché insisto sulle relazioni perché quello che resta invariante e deve restare invariante per garantire che il significato non venga tradito mai è proprio questo set di relazioni. Non so, faccio un esempio molto banale però poi sarò molto più specifico di così. Io e mio fratello abbiamo un grado di parentela che resta invariato sia se ci affacciamo alla finestra del balcone di casa dei miei sia se andiamo in vacanza insieme. Ok? rimaniamo sempre un pezzo di una certa famiglia io e mio fratello perché abbiamo quel particolare tipo di legame. Per noi il particolare tipo di legame che hanno una fotogalleria un video e un testo è un legame che esprime un significato e quel legame deve rimanere invariante anche se questi oggetti manifesteranno la loro relazione in maniera diversa con attributi diversi con grafiche diverse in un cellulare oppure in un sito più grande così comincio piano piano a diradare un po' di nebbia. Quindi adesso entriamo in questa mezz'ora che serve per dare delle basi dei concetti comuni che ancora non c'entrano con le dieci mosse dopo entriamo nelle dieci mosse che però derivano da questi concetti. Allora la rete è un grafo il grafo è un concetto matematico è una forma geometrica immaginatela come potete immaginare un cerchio un quadrato un triangolo è un grafo il grafo esiste come concetto da molto prima che nascesse la rete è un concetto antico dei matematici io avevo uno zio o uno zio che ha insegnato per tanto tempo la sapienza teoria dei grafi e mi sembrava una roba completamente astratta e mai avrei pensato che io umanista un giorno avrei dovuto cercare di capire che cos'è un grafo ecco vi devo sottoporre a questa sevizia dovete capire anche voi cos'è un grafo perché se capite cos'è un grafo il resto è in discesa allora intanto vi dico che cosa ci si può fare per esempio mio zio è stato ad un certo momento chiamato dall'amministrazione di città del Messico pensate una città enorme perché lui insegnava cammini minimi all'interno del grafo cioè lui studiava dei modelli matematici per ottimizzare i percorsi che connettevano i nodi di un grafo e quindi lo hanno chiamato per ottimizzare i percorsi degli autobus ok perché perché intanto come è fatto un grafo un grafo è fatto di nodi che sono quelli blu e di archi che li connettono ora un nodo può avere tanti archi che lo connettono ad altri nodi un altro nodo può essere un po' più yellato e ce n'ha uno solo che lo connette ad altri nodi se voi sorvolate l'Italia di notte vi rendete conto che ci sono dei punti ai quali afferiscono molte strade e potete pensare che questi punti siano importanti e infatti è così anche in un grafo cioè un nodo che ha parecchie relazioni in ingresso o da cui si diravano parecchie relazioni è più importante di un nodo che non ne ha ora cominciate a sostituire alla parola nodo un documento un file un articolo un contenuto diciamo e cominciate a capire perché la rete è un nodo è un arco e potete cominciare a sostituire a concetto di arco per esempio il concetto di link ok per cui questo significa che non so questa è la fotogalleria dell'ultima partita di campionato e questa è la scheda biografica dell'allenatore che a sua volta linka quest'altra non so io quest'altro sondaggio ok ora però il punto più importante non è capire questo pezzetto qua ma è capire che gli archi non sono tutti uguali proprio perché se le relazioni fra le cose in rete sono proprio quelle che la qualità della relazione fra le cose è quella che veicola il significato abbiamo bisogno di poter creare delle relazioni diverse associate a significati diversi allora intanto come nelle strade questi archi possono essere a senso unico a senso doppio quelle a senso unico sono le relazioni che sono percorribili solo da un punto A al punto B per esempio io sto vedendo questa cronaca della partita vado a vedere questa scheda non so io su una squadra ma questa squadra a sua volta non sta allincando la cronaca di questa partita quindi sono in presenza di una relazione monodirezionale però da lì non torno più indietro a meno che non clicco indietro sul mio browser ok quello lo posso sempre fare back sul browser è il tasto più usato del web pensate però non c'ho dentro quel contenuto un link che mi dice guarda ritorna questo articolo per capire questo articolo è importante la cronaca di quella partita loro non sanno che tu provieni da quella partita questo è un altro aspetto molto importante perché in un grafo non c'è un solo modo di andare da un nodo ad un altro e questo concetto è quello che scardina completamente il rapporto con l'informazione linearizzata che può esserci in un giornale o in un telegiornale perché mentre lì il percorso previsto dal direttore dalla redazione è obbligato vedo la prima pagina sfoglio vedo la seconda sfoglio vedo la terza e così via qui le varie se i nodi blu i puntini blu sono delle pagine il percorso che voi potete fare qua dentro è totalmente imprevedibile ok che cosa posso fare io posso fare in modo che quando vi trovate qui abbiate questo set di possibilità offerte da me quindi voi a seconda delle possibilità di navigazione che vedete vi fate un'idea sulle relazioni che quel particolare contenuto instaura con quelli che io gli ho messo intorno cioè quelli che gli ho reso raggiungibili chi di voi ha letto mai nella vita sua è un fenomeno degli anni 80 un libro game ve li ricordate siamo in due insomma erano libri siamo tre siamo quattro erano dei libri in cui diceva se vuoi che il protagonista beva una birra vai a pagina 25 ecco immaginate che è un po' così cioè ci sono dei percorsi codificati però tutto sommato l'utente potrebbe andare da qua a qua giù facendo dei giri molto lunghi o dei giri un po' più corti dunque dicevamo quindi che questi archi possono essere orientati oppure non orientati dicono i matematici non orientati in realtà sono degli archi che in cui la relazione è reciproca A link a B ma B link a A ok poi dovete capire che questi nodi blu possono essere quelli interni ad un sito ma un sito è immerso nella rete io posso linkare anche wikipedia posso linkare siti che sono fuori dalla diciamo dal mio dominio www.fesercizio federicobadaloni.it ok e questi sono i nodi gialli quindi voi vedete che gli archi possono anche generare delle relazioni esterne al mio sito certe volte anche bidirezionali nel senso che io linko il sito di un mio amico e il sito del mio amico linka me quindi cominciate a capire quanto già solo con i link siamo in presenza di una grande sfaccettatura di qualitativa di relazione fra i contenuti ora apro un attimo una porta ma la richiudo subito perché ci porterebbe lontano ed è un altro panel la rete non è più un posto fatto di contenuti oggi quei pallini sono persone siamo noi pensate al grafo sociale di facebook a twitter ok quindi se sostituite quei pallini non più al concetto di articolo o di fotogalleria cioè di contenuto ma al concetto di uomo cioè siamo noi che siamo in rete capite quanto attraverso le qualità dei legami si esprimono in realtà delle qualità relazionali umane delle intensità di legame umano e soprattutto in estrema sintesi si esprime la quantità e la qualità della fiducia che lega i gruppi umani che può essere a senso unico può essere reciproca può essere interna ad un gruppo attraverso dei gruppi ci porterebbe lontano questo discorso lo chiudo subito ma è soltanto per dirvi che il concetto di grafo è veramente molto potente per capire la realtà che stiamo vedendo e quindi per forza di cosa a mio giudizio tocca partire da qua il valore di un grafo come si misura e poi finisco con questa storia del grafo il valore di un grafo si misura sommando gli archi e i nodi non solo i nodi ok quindi se io ho un sito fatto di 5 contenuti ma molto interconnessi con molte relazioni diciamo che le relazioni sono 10 ok e i contenuti sono 5 io in totale ho un valore di 15 per questo grafo se io ho un sito che ha 10 contenuti il doppio di quello lì del primo ma non ha nessun tipo di relazione fra questi contenuti quello vale molto di meno capite come questo ridefinisce anche il concetto di valore della produzione giornalistica certe volte forse per fare in modo che il nostro sito abbia un valore non serve produrre molto ma serve relazionare molto i contenuti che abbiamo fatto ok questo per ora prendetelo come un fatto che deriva da una legge matematica in realtà noi lo vediamo tutti i giorni e questo per esempio è il modo in cui google attribuisce valore alle pagine cioè una pagina se io faccio un articolo senza link ok lei me lo ruba lo copia e lo incolla sul suo sito e lo riempie di link ora sto facendo un esempio proprio astratto a parità di importanza dei nostri domini eccetera il suo sarà più in alto nei risultati di ricerca di google del mio ok quindi sempre dalle leggi che i matematici hanno scoperto che valgono per i grafi noi sappiamo che un contenuto che non genera nuove relazioni perde valore nel tempo a cosa è legato questo concetto questo concetto è legato al fatto che i contenuti vanno fatti evolvere una volta Marco Pratellesi ha detto che il lavoro del giornalista digitale comincia quando preme il bottone pubblica mentre quello del giornalista analogico è finito quando ha premuto pubblica se ne va a casa questo è assolutamente spiegabile all'interno del concetto del grafo perché un nodo che continua a generare relazioni è vivo così come una persona che fa evolvere i suoi legami affettivi i suoi legami di amicizia è viva è una persona che non è più in grado di fare quest'operazione è morta si isola è una persona isolata una persona che non è in grado di crescere attraverso il fatto di sviluppare nuove relazioni quindi anche questo dovrebbe orientare spesso le scelte delle relazioni fra dire crea un nuovo contenuto così faccio due page views o faccio crescere questo che ho già generato una rete che non accoglie nuovi elementi nuovi elementi cioè nuovi nodi interagenti nuovi nodi capaci di generare relazione perde valore nel tempo lo perde cioè ne abbiamo speso un sacco di energie per produrre quell'inchiesta o quel pezzettino di rete una rete è un insieme di contenuti che sono relazionati fra di loro solo che non accolgono nuovi elementi interagenti è una rete che è stagna non può più essere accresciuta ecco questa rete immaginiamo che al momento della sua pubblicazione vale 100 dopo un mese vale molto meno di 100 perché una rete che non accoglie nuovi elementi interagenti tende a perdere valore nel tempo e calcolate che in rete tutto resta tutto resta di conseguenza un atto generativo all'interno della rete cioè un atto di pubblicazione ragionata di cristallizzazione proprio delle energie umane all'interno della rete tende a perdere proprio valore nel tempo se non viene accudita se non viene curata ok non è possibile prevedere quale percorso lo farà l'utente quando sono stato assunto nel 2000 al gruppo espresso tecnicamente la mia testata si chiamava CataWeb e CataWeb aveva un prodotto che si chiamava Catalogo con la K CataWeb Catalogo e che cosa succedeva c'erano dei miei colleghi che facevano i web surfer cioè navigavano la rete e quando scoprivano un bel sito per esempio immaginiamo un sito dove c'era la ricetta del risotto alla milanese uh ammazza guarda che buono questo risotto alla milanese è perfetto è buonissimo adesso sai che faccio lo metto nel motore di ricerca ma cosa mettevano secondo voi nel motore di ricerca che cosa voleva dire metterlo nel motore di ricerca Catalogo secondo voi che facevano prego mettevano il link di ok quindi dovevano scegliere quale link mettere no e quale mettevano mettevano la home page perché era pieno di pagine ma questi mettevano la home page adesso salvo la home page e poi nei commenti ci scrivo guarda che dentro questo sito trovi le ricette per fare il risotto alla milanese e pure la cotoletta va bene quindi quando voi navigavate questi oggetti qua e scrivevate risotto alla milanese voi vi beccavate il link alla home page non fa una piega allora voi direte sì vabbè ma siamo noi italiani per agottari che facevamo le cose a mano eh sì però c'era Yahoo all'epoca era fatto esattamente nello stesso modo perché perché siccome la scoperta dei siti interessanti era fatta a mano e anche il salvataggio dei siti interessanti era fatto a mano uno prendeva la pagina più rappresentativa di quel sito cioè la home page dunque le home page erano portali cioè l'utente la prima entrava in un sito attraverso la home page perché era quella che gli veniva restituita dai motori di ricerca poi è arrivato un robot chiamato Google che ha fatto lui il lavoro di scoperta e di salvataggio dei siti che trovava all'interno del suo motore di ricerca e secondo voi quando trovava la ricetta del risotto allo zafferano quale indirizzo metteva nel proprio motore la risposta è tutti tutti quella della cotoletta quella del risotto e pure la home page ma l'effetto è stato che quando voi noi all'epoca abbiamo cominciato a scrivere risotto allo zafferano non ci usciva più la home page del sito di ricette ma ci usciva la ricetta del risotto dunque non entravamo più in quel sito attraverso la home page capite che è una rivoluzione copernicana perché mentre prima un editore o chi faceva un sito in un certo senso poteva riprodurre quello che accade in un giornale mi guardo la prima pagina poi la sfogli e quindi la home page era infarcita di link che ti servivano per muoverti da quel momento in poi non era più così perché tu ti ritrovavi che l'utente entrava da qua sotto da qui dietro da quell'articolo da quell'altro contenuto da quella fotogalleria quindi oh aspettate poi c'è un altro fatto poi sono arrivati i social network per cui se io mando una mail a lui perché penso che lui è interessato non so io al ciclo di affreschi di giotto ad assisi dico guarda che bello hanno restaurato questo affresco io gli mando ma proprio l'articolo che parla del restauro di quell'affresco per cui i social network da twitter facebook quello che volete sono esattamente dei motori di ricerca umani che distribuiscono informazione anzi i riferimenti spesso all'informazione su twitter è pieno di riferimenti no guarda che qui c'è un articolo interessante su questo paf link non è che sono non è un linker non è una specie di luogo di aforismi in 140 caratteri è un luogo di puntamenti e di selezione umana contenuti rilevanti oh guarda Fede Badaloni che questa roba per te è importante ti segnalo questo dopo quando è finito questo panel vatti a sentire questo qua ok quindi è come se attraverso i social network non dobbiamo più aprire google è come se quell'informazione puntuale che prima trovavamo su google ci arriva in tasca perché ci arriva sul telefonino quindi pensate quanto ancora di più il meccanismo di distribuzione dei contenuti della coppia google più social network scardina il concetto di home page come portale quindi la prima grossa scandalo è che un home page non è un portale non è più necessariamente il primo posto che l'utente vedrà vedete queste sono le basi perché tutto il modo di progettare nasce da queste consapevolezze quindi ho ritenuto fondamentale condividerle prima di addentrarmi poi nella tecnica specifica perché altrimenti temevo che la tecnica che vi racconterò dopo potesse sembrarvi solo un insieme di regolette pratiche invece così immagino possiate collocarle in un quadro concettuale un po' più solido dunque quando ci fu il report interno del new york times che fu divulgato qualche tempo fa insomma anche lì loro dicevano la nostra home page è sempre meno rilevante rispetto ai flussi del traffico quindi qual è la prima conseguenza cioè che cosa abbiamo fatto noi architetti di informazione abbiamo dovuto accettare l'idea che ogni pagina è un portale anche quella del risotto allo zafferano cioè ogni pagina deve essere progettata in modo tale che una parte di essa serva come punto di ingresso e quindi in pratica è come se vi stessi dicendo che ogni pagina web ti deve dire benvenuto nel mondo di Repubblica IT guarda sì qua si parla di questa storia ma abbiamo anche questo 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 quest'altro che era il mestiere che faceva un home page cioè di portale inteso come punto di ingresso e di smistamento del traffico però è chiaro che una pagina per quanto una pagina web possa essere larga quanto ci pare e alta quanto ci pare comunque farà un mestiere principale che è quella di dirti la ricetta di raccontarti una storia per cui è difficile farli fare due mestieri anche quello del portale oltre a quello di farle raccontare una storia e quindi capite come questo spostamento dei flussi di navigazione sulle pagine di dettaglio così introduciamo un altro concetto che ci può unire la pagina di dettaglio è quella atomica dove si racconta una storia è l'articolo la fotogalleria il video ok questo spostamento abbia reso molto più complessa la progettazione delle pagine di dettaglio e che guarda caso sono diventate proprio quelle da cui entrano gli utenti quindi che mestiere deve fare una pagina di dettaglio che vuol dire dire sono un portale deve svolgere il compito di un portale bene ti deve dire caro utente ti trovi in questo ambiente come può farlo per esempio come può assolvere a questa funzione secondo voi come fa a dire ti trovi in questo ambiente con un logo per esempio con una scritta ok dovete abituarvi a dissociare la funzione dalla specifica soluzione le soluzioni spesso sono tante ma le funzioni no quindi se vi concentrate sulle funzioni riuscirete a progettare meglio i vostri siti perché la tecnologia e comunque la grafica l'innovazione potranno modificare le soluzioni ma le funzioni rimarranno abbastanza stabili quali contenuti vi si trovano in questo ambiente questo come lo possiamo fare come possiamo dichiarare quali contenuti ci sono in questo sito voi siete su non so una ricetta pensate un po' state leggendo un articolo che potete fare per dire quali contenuti si trovano in questo ambiente un menu per esempio è una buona idea ok articoli correlati no dipende poi è chiaro che in un caso col menu ti faccio vedere delle classi si parla di sport si parla di con degli articoli correlati ti faccio vedere magari un set di articoli che a sua volta è una classe ma è un pochino più raffinata allora devo capire con quale criterio la sto legando al mio contenuto cioè perché sono correlati perché sono i più visti perché gli utenti che hanno fatto hanno visto quella ricetta ne hanno vista un'altra sono correlati perché parlano dello stesso argomento ci sono tanti modi ok però intanto capite che per svolgere questo mestiere ho varie soluzioni come funzionano questa è un'altra cosa fondamentale cioè comprendere l'ecosistema vuol dire che in questa pagina cioè voi dovete capire come si usa questo sito ora finché rimaniamo nel concetto di sito classico questa affermazione vi può sembrare un po' così astratta ma siccome vi dico sono partito dal concetto che noi progettiamo l'informazione in vari luoghi se state immaginando di progettare un'applicazione sul cellulare capite che l'informazione su come si usa diventa fondamentale cioè se voi state vedendo una fotogalleria sul cellulare per voi è rilevante in uno spazio così piccolo capire come si va avanti come si vede la prossima e vi arrabbiate quando cominciate a muovere da tutte le parti e non succede niente e pensate molto spesso succede che l'utente pensa di essere lui il problema eh vedi io con la tecnologia è invece un problema di un designer cioè è un architetto informazione che ha fatto male il suo lavoro e poi vi spiego perché sono convinto di questa affermazione questa è un'altra domanda importante chi sono io per questo ambiente sono un utente passivo sono un contributore sono un regista sono uno scrittore sono un compratore sono ok ora ogni volta che entriamo in un ambiente noi risolviamo mentalmente questo problema se entriamo in un bagno noi sappiamo che in quel momento siamo persone che devono risolvere un bisogno molto particolare e ci aspettiamo che l'ambiente no dichiari di riconoscerci per quello che in quel momento siamo rispetto a lui e ci guidi questi sono gli uomini queste sono le donne lì per lavare le mani ok quando voi entrate qua voi state qualificando voi stessi in questo momento come eh alunni fra virgolette e quindi vi aspettate che l'ambiente sia funzionale a questa qualifica che voi avete dato di voi stessi un ecosistema informativo cioè un sito un'applicazione che non rende agevole questo scambio di questo percorso mentale che vi ho appena spiegato è un sito poco usabile è un sito in cui voi non capite bene come fate a fare quello che volete fare perché non sapete bene chi siete ok su Amazon voi siete per esempio diciamo un lettore però potreste essere un compratore potreste essere qualcuno che vuole fare un regalo a qualcun altro potreste essere qualcuno che pubblica il proprio libro e lo vuole fare con il self publishing di Amazon ok quindi voi avete bisogno che dentro Amazon ci siano degli ambienti dove immediatamente voi capite chi siete voi per quell'ambiente anche per quel sotto ambiente e questo voi lo deducete da informazioni che stanno nella pagina ve ne dico una per tutte proprio perché non voglio sembrarvi astratto quando per esempio vi loggate su un sito c'è scritto benvenuto Federico voi capite in quel momento che siete diventati qualcun altro per quell'ambiente siete diventati siete stati riconosciuti e se quell'ambiente serve per commentare voi sapete che da quel momento in poi lo potrete fare ok questo è uno dei modi di spiegare chi sono io per questo ambiente guardate che chi sono io per questo ambiente lo dico perché siamo fra giornalisti e comunicatori lo si esprime anche con il tono of voice affrettatevi in edicola cioè è un tipo di linguaggio un tipo di tono che ti qualifica immediatamente come uno che sta là perché deve essere sedotto a comprare immediatamente quindi sono molti molti modi molto sfumati quelli che possiamo utilizzare per esprimere questo concetto chi può vedermi ecco anche il chi può vedermi è una cosa fondamentale pensate su google sto pubblicando questa cosa chi la può vedere sono loggato a Foursquare entro dentro un locale tutto il mondo sa che io sono entrato in quel locale tutto il mondo vede che sono entrato in quel locale quindi è molto importante oggi che nei nostri siti e nelle nostre applicazioni noi spieghiamo anche il grado di visibilità delle azioni che un utente sta facendo tutti questi pezzettini ormai io vado a memoria ma diciamo è come se noi ce l'avessimo stampati dietro la scrivania e quando progettiamo una pagina li percorriamo uno per uno e vediamo se abbiamo risposto a tutti perché sono delle cose molto pratiche si devono tradurre in cose molto pratiche cosa posso fare? posso commentare posso fare questo poi chi lavora qui perché lo fa? perché ci crede perché è pagato perché non lo so ha un ideale guardate che questo concetto infatti li ho messi raggruppati così chi lavora qui e perché lo fa sempre di più in rete dove appunto le cose sono collegate fra di loro soprattutto attraverso legami di natura fiduciaria cioè ehi guarda vatti a leggere quest'articolo tu lo farai se hai tanto più quanto più hai fiducia in me ok? in questo tipo di ecosistema capire perché chi lavora qui sta facendolo può essere è la chiave sulla base della quale siamo viene giudicato il nostro contenuto spesso molto spesso viene scelto un sito piuttosto che un altro non solo per come è scritto l'articolo per quanto ci sembra completo non so posso fare il caso di internazionale io ho un sacco di amici che sono abbonati internazionale perché condividono questa sorta queste due domande più che perché gli piace il sito ok? o posso fare l'esempio di tante altre testate insomma come faccio a contattarli? questo vi sembrerà una cosa piccina invece non lo è pensate che se l'informazione contatti è visibile in un sito molto visibile in un sito è stato misurato che il tasso di fiducia percepita nei confronti del sito solo per questo solo per il fatto di vedere una scritta contatti aumenta di 4 punti percentuali ora questo riguardava la comprensione dell'ecosistema adesso vediamo che vuol dire comprendere il particolare contenuto perché questo contenuto si trova in questo ambiente ok io ho capito tutto quello che c'era intorno a quest'articolo ma perché avete scelto di fare proprio questo articolo perché questo contenuto sta in questo ambiente vi faccio subito un esempio mettiamo che io fondo un giornale generalista fondo un giornale boh che ne so io il nostro paese a un certo punto sto facendo la relazione di una partita di calcio già l'utente può dire ma perché vi occupate anche di sport si ci occupiamo anche di sport poi l'utente vede nominato l'allenatore di una delle due squadre clicca finisce su wikipedia cosa capisce capisce che io volevo fare un servizio a chi non conosceva quell'allenatore ma non ritenevo identitario offrire una mia vista sulla biografia di quell'allenatore mi sta bene quella di wikipedia perché non è il mio specifico ok non è il mio core non è identitario per me fino a quel punto e quindi vedete questa natura del legame questo è un legame monodirezionale esterno se invece io clicco e vedo che la scheda sulla biografia di quell'allenatore l'ho fatta io e ho scelto io le parole non l'ho rubata l'ho fatta io perché volevo dirvi come volevo farvi capire quella vita di quell'allenatore in questa chiave particolare voi capite che il giudizio sul perché quel contenuto si trova in quell'ambiente è un giudizio che diventa identitario rispetto alla testata quindi questa informazione in genere vuoi che sia contenuta nel pezzo vuoi che viene esplicitata da alcune testatine vuoi per esempio dal modo in cui chiamiamo la categoria in cui è posizionato questo pezzo quello può essere un altro modo faccio un esempio banale un furto in villa è sicurezza o è criminalità il caso rubi è gossip o è prostituzione minorile quindi il perché questo contenuto sta in questo posto ha molto a che fare con l'espressione della nostra identità e viene veicolato da una grande set di possibilità un po' come se ci fosse un'orchestra ogni volta di soluzioni attraverso le quali noi possiamo risolvere queste funzioni quali altri contenuti posso trovare sullo stesso tema questa è un'altra funzione a cui deve rispondere una pagina di dettaglio sì a me piace un sacco questo il surf vedi c'è un articolo sul surf ma ne fate altri sul surf cioè voglio continuare a leggere i vostri articoli sul surf quindi se ne abbiamo dobbiamo mostrarglieli questi sono tutti i mestieri che deve fare una pagina scusate non so se è finito mi sa di no sì ok che cosa è successo che durante la cosiddetta parentesi Gutenberg che guardate che non è ne parlavo ieri col mio professore antropologia culturale che ho incontrato in treno perché insegna a Perugia adesso dopo vent'anni ci siamo rincontrati ieri in treno per gli antropologi c'è una schematizzazione di massima che è la cultura orale e la cultura del diciamo scritta ok in realtà ben vedere lo shift non è stato quello dell'invenzione della scrittura che ha cambiato veramente le cose in modo di trasmettere pensiero il vero shift c'è stato quando è stato industrializzato il processo della scrittura cioè il salto che c'è stato è stato fra la possibilità di stampare un libro rapidamente in mille copie e il fatto di metterci l'intera vita di un monaco quella è stata la differenza perché la moltiplicazione del libro ne garantisce la sopravvivenza una di quelle mille si salva di sicuro mentre con molti manoscritti che erano stati copiati in tre copie l'eseguità del numero delle copie era garantiva il fatto che aveva alte probabilità di non sopravvivere non essere tramandata a quell'informazione quindi ad un certo punto il processo industriale di produzione di scatole che veicolavano la conoscenza immaginate il libro così infatti il concetto di medium di McLuhan di scatole che servivano per veicolare la conoscenza quando è diventata una produzione industriale in realtà si è industrializzato anche il nostro modo di pensarla l'informazione e questa informazione è diventata sostanzialmente mettere le cose in fila noi oggi pensiamo che sia naturale raccontare un fatto mettendo le cose in fila in realtà non lo è non è il modo naturale l'Orlando Furioso non è stato scritto secondo un concetto lineare di narrazione ma secondo un concetto di cerchi che puntano come dei petali di un fiore che puntano tutti al centro la narrazione sulla facciata di Notre Dame a Parigi non è una narrazione lineare la narrazione anche del freggio del partenone non è una narrazione lineare è una narrazione che esplode da un centro e si espande come un sasso in uno stagno cioè ci sono molti modi di organizzare l'informazione poi pensate al modo di tramandarla dal vecchio che racconta una storia nella stalla e questa storia viene propagata in n direzioni da chiunque l'ha sentita quindi ci sono dei modi di dire le cose di propagare le cose diversi dal metterle in fila e ci sono sempre stati anzi sono stati quelli che hanno garantito la sopravvivenza culturale dell'umanità fino al momento in cui non si è industrializzato questo processo ora avendovi spiegato prima che la rete è un grafo forse vi tornerà chiaro dove voglio arrivare cioè anche nella rete in realtà le cose non possiamo metterle in fila questo però non vuol dire che non possiamo più comunicare non vuol dire che non possiamo fare giornalisti però dobbiamo capire come sfruttare un meccanismo diverso di rappresentazione dell'informazione per fare il nostro mestiere che è quello di dirti cosa è più importante se facciamo coincidere l'abilità di dirti qual è la cosa più importante con l'abilità di mettere le cose in fila abbiamo perso perché in rete questa cosa non serve non funziona non la possiamo fare adesso ho fatto una piccola fuga in avanti ma ora ve la dimostro passo passo dunque all'interno di questi oggetti le cose vengono effettivamente messe in fila che vuol dire metterle in fila vuol dire per esempio che un giornale ha una direzione si legge dalla prima pagina verso l'ultima è come se noi avessimo affettato un pezzo di spazio di tutto lo spazio disponibile noi abbiamo stabilito che ci sia un bordo che va da qua a qua e poi arbitrariamente abbiamo stabilito che le cose più importanti le mettiamo vicino a questo bordo qua e le cose meno importanti le mettiamo vicino a questo bordo qua dove per bordo intendo l'ultima sequenza l'ultima pagina o la prima pagina lo stesso in un telegiornale quindi questo concetto del bordo dell'IMEN che serve per esprimere di l'IMEN spazio temporale come contenitore il cui bordo fa parte dell'atto di comunicazione perché quel bordo là ti dice due cose ti dice tutto ciò che sta fuori di me non è rilevante tutto ciò che sta dentro di me è rilevante e poi ti dice tutto ciò che sta vicino a questa coordinata geografica del mio bordo cioè l'inizio è importante quello che sta in fondo non lo è quindi pensate quanto partecipa la narrazione il bordo del foglio del nostro giornale anche se ormai l'abbiamo assunto e ci sembra normale che sia così tant'è vero che se io di nascosto sposto le pagine di un giornale in tipografia prima che esso vada in stampa il direttore mi fucila perché quella sequenza è significativa esprime significativa però è arbitraria voi conoscete un artefatto identico ad un giornale dove le cose più importanti stanno alla fine quale libro non è detto che sia romanzo un giallo un giallo cioè capite che è arbitrario ok però non è che ci sono le istruzioni di un giornale eppure noi l'abbiamo così introiettato che pensiamo che sia normale che le cose più importanti stanno all'inizio ma ci sembra normale perché sappiamo che un inizio può esistere può esserci un inizio questa cosa è valida anche nella bidimensionalità della pagina dove le cose adesso ve la dico in maniera diversa da come v'aspettereste credo in questa pagina le cose più importanti sono le più vicine al bordo in alto a sinistra è giusto? perché leggiamo da sinistra a destra e tendiamo a percepire che ciò che sta qua è più importante di ciò che sta qua l'abbiamo imparato ci sembra normale che sia così in un telegiornale c'è la stessa cosa come si segmenta il tempo in un telegiornale? chi ha un'idea di come avviene questa cosa? perché anche lì lo spazio la carta a disposizione nel mondo è teoricamente infinita il giornale è un pezzetto della carta è un pezzetto di spazio e avendo un pezzetto io ho usato un limen un inizio una fine in un telegiornale dove è l'inizio? chi ci arriva? guarda che è facile palo palo ci sei vicini? la sigla la sigla vuol dire la sigla ok fino ad adesso il tempo non è che era sospeso il tempo scorreva ma da ora comincia un tempo che ha un altro significato e la sigla di fine serve per la stessa ragione ora è finito il tempo rispetto al quale questi contenuti erano significativi quindi il fatto di avere una direzione è la possibilità di esprimere relazione vedete come sto ritornando al concetto di esprimere le relazioni quindi non è che noi adesso che c'è la rete dobbiamo ragionare sulle relazioni è che noi non ci ragionavamo più perché ci sembrava una roba naturale ma in realtà quello che facevamo quando impaginavamo diciamo così era proprio esprimere delle relazioni ma siccome l'abbiamo sempre fatto usando il concetto di linea cioè di direzione lo abbiamo assunto nel nostro DNA ci è sembrato naturale che fosse così ok dunque dunque se prima un oggetto all'interno dello spazio e del tempo era significativo in base alla posizione che occupava e questa posizione doveva essere assolutamente univoca e inamovibile ok perché se no il suo significato cambiava ora ci troviamo in un universo in cui ogni informazione pensate a un video di youtube io lo posso prendere ed embeddare spostarlo lo metto sul mio sito cioè ogni cosa poi pensate al modo di raggiungere la ricetta del risotto chissà da dove ci sono arrivato me l'ha detto lui via mail me l'ha detto lei su whatsapp ci sono arrivato da google ok quindi l'informazione si ricombina non è più inserita in una linea quindi il vero scandalo che il giornalismo sta vivendo ed è questo lo scandalo è il lasciare andare l'informazione il fatto di abbracciare l'idea che possiamo continuare ad essere giornalisti ed esprimere le relazioni ma dobbiamo farlo con una tecnica diversa che c'entra poco con il fatto tecnologico ok ma possiamo continuare a farlo il giornalismo è che dobbiamo farlo gestendo diversamente il rapporto col tempo e con lo spazio per alcuni questo è uno scandalo per altri è una grande opportunità perché è perché possiamo far volare la nostra informazione molto più lontano di quanto facevamo prima per esempio perché l'informazione pubblicata in rete resta per sempre quella pubblicata in un giornale domani c'è più per esempio perché quella in rete è letta da potenzialmente un miliardo di persone quella in un giornale è letta solo da quelli che sono andati in eticola quel giorno quindi la seconda conseguenza sto chiudendo questa fase delle premesse è che il significato viene espresso attraverso l'intensità della relazione fra gli item item vuol dire contenuti ok usiamo item per non dire articolo fotogalleria video per noi sono tutti un item un atomo informativo così come nelle molecole io posso legare l'idrogeno due atomi di idrogeno ad uno di ossigeno e ho la molecola dell'acqua io leggo due fotogallerie particolari a quel certo articolo e ho una certa storia una molecola informativa però l'intensità del legame fra queste molecole che viene percepita dall'utente come nel caso dell'allenatore hai linkato Wikipedia lo hai fatto tu diventa un giudizio diventa un modo il fatto che l'utente si forma un'idea su il significato che noi vogliamo esprimere adesso quindi ripassiamo quello che possiamo fare con un link abbiamo due contenuti possiamo dire che li leghiamo con un link monodirezionale esterno ok link a B A è fatto da Repubblica B è fatto da Wikipedia poi possiamo esprimere un legame più forte che è monodirezionale ma interno no aspetta Repubblica si è fatta la sua scheda biografica di Cragnotti non ha linkato la pagina di Cragnotti su Facebook ok oppure un legame bidirezionale interno se io faccio una cronaca di una partita la finale di un campionato e linko la scheda dell'allenatore ma poi mi accorgo che dentro la scheda dell'allenatore è linkata quella partita vuol dire che immediatamente io capisco che quella partita per la vita di quell'allenatore è stata particolarmente importante perché addirittura nella sua scheda biografica hanno linkato quella famosa partita in cui lui ha vinto la Champions League e quindi poi l'hanno chiamato ad allenare l'Inghilterra non lo so faccio per dire quindi questa percezione per quello vedete che ritorna il concetto di user experience design per quello noi disegniamo l'esperienza dell'utente perché proprio attraverso l'esperienza dell'informazione che l'utente sostanzialmente compie un atto cognitivo rispetto all'informazione e al contesto di essa sabato io terrò un altro panel con Luca Rosati che si chiama proprio così dalla notizia all'esperienza anche quello sarà un workshop proprio perché lì lavoreremo su come si trasforma una notizia in una esperienza che vuol dire un'esperienza cross canale un'esperienza che avviene in vari luoghi diversi non soltanto all'interno di un sito mentre qui siamo focalizzati su come si progetta un sito dunque quindi poi c'è una relazione massima proprio quando capiamo che quelle due cose hanno un legame fortissimo sapete qual è? La compresenza è una cosa antichissima la compresenza vedere non so una foto all'interno di un pezzo vedere un video all'interno di un pezzo cosa che tecnologicamente non era facile e sono relativamente pochi anni che si fa prima queste due cose non riuscivamo a infilarle nella stessa pagina ma la compresenza vedere due cose vicine nello stesso spazio nello stesso tempo esprime il grado massimo di relazione quindi vedete quanti ne abbiamo uno due tre quattro già siamo in grado di esprimere quattro sfumature di legame fra i contenuti dunque all'interno di questo grafo noi possiamo dire che un singolo nodo una singola informazione è un po' come questo e io vi assicuro che questa è una storia ma immaginate io sia un cronista adesso suggeritemi la storia ecco dunque si accende la telecamera la luce rossa della telecamera sono in diretta ecco di fronte a noi in questo momento si trova cosa si trova cos'è una persona chi sarà vai un piatto di una bilancia non possiamo dire molto più di così perché? perché ci serve un contesto ci serve di mettere queste informazioni in relazione ad altre informazioni guardate il grafo ecco qua ho generato una relazione e vedete è un po' piccino che la bilancia adesso racchiude l'anima di un dannato che viene giudicato c'è un angelo che regge questa bilancia c'è un demone e quindi voi capite che qui c'è una storia e infatti se io faccio la telecronaca dico ecco in questo momento di fronte ai nostri occhi c'è un'anima di un dannato che viene giudicata la bilancia sulla quale sarà giudicato viene sostenuta da un angelo che guarda lontano all'orizzonte mentre tre demoni si affannano a tirare giù il piatto opposto nella speranza di come si dice assegnare a se stessi di carpire l'anima di questo dannato eppure misteriosamente la bilancia pende dalla parte dell'anima che è una mentre i diavoli che tirano sono tre vedete questo mistero io l'ho colto perché so come funziona quella bilancia mia figlia che ha nove anni probabilmente la mia bilancia del genere la vedrà soltanto nei palazzi di giustizia io l'ho pure tenuta in mano una bilancia di quel tipo però piano piano stiamo perdendo memoria di come funziona quella bilancia quindi probabilmente così come un cinese di fronte a queste immagini oppure voi se io avessi preso delle immagini della mitologia hindù non riuscite a capire tutto perché questo oggetto non esprime tutto questo oggetto è simbolico dovete usare delle cose che stanno nella vostra testa dunque c'è un mistero immaginate che io debba fare l'editoriale cioè debba dare la chiave del mistero debba dire ma perché sta bilancia vende dalla parte di questo qua che è uno e quelle sono tre ok dunque io ancora una volta posso allargare questo contesto creare una rete di relazione più ampia e scoprire che in realtà quello lì sta al centro della facciata della cattedrale di Notre Dame e proprio sopra di lui c'è una grande figura di Cristo a cui puntano le mani giunte quindi quell'uomo sta pregando sta pregando Cristo quindi Cristo come telos come fine della sua preghiera Loren svela il mistero siccome questa cattedrale è il luogo dove si prega entrate e pregate perché vi salverete guardate quanto è raffinato questo complesso di concetti ed è stato espresso per persone che non sappiano leggere in una infrastruttura relazionale non lineare fra l'altro non lineare perché è basata su un centro che esplode delle relazioni e l'ho usata per dimostrarvi la sua compatibilità con il concetto di grafo e voi capite nel caso di questa scultura la intensità fra gli oggetti informativi l'angelo è un oggetto informativo la bilancia è un oggetto informativo l'anima è un oggetto informativo attraverso la prossimità cioè una roba lontana ha una relazione inferiore rispetto ad una roba vicina al protagonista a ciò che su cui ci stiamo concentrando vi torna questa idea dunque anche qui voi capite il contesto mettendo in relazione delle scusate pesando delle relazioni per la loro importanza sulla base della distanza però la stessa cosa vi ho appena insegnato a farla con ben quattro gradi di sfumatura all'interno della rete la compresenza il link bidirezionale interno il link monodirezionale interno il link monodirezionale esterno quindi guardate quanto in realtà potete esprimere la prossimità del legame anche voi un piccolo concetto diciamo in più in rete siccome tutto resta la totalità dei nodi che noi abbiamo pubblicato corrisponde un po' alla cattedrale e il concetto di testata mentre nei media tradizionali è sempre inferito cioè una forma di stratificazione nella mia memoria di come la pensa Repubblica nel tempo o di come la pensa Tg1 per una testata online per un sito online è sempre lì è immanente è presente se io passo il pomeriggio a cliccare su tutti gli articoli che sono stati pubblicati io ho la rappresentazione plastica dell'identità della testata perché ho tutti i nodi e tutti i legami quindi guardate quanto in realtà la rete ci obbliga ad un atto di focalizzazione rispetto alla nostra identità e quanto ci interroga rispetto alla costanza con la quale portiamo avanti una certa visione del mondo come in rete per esempio può essere un valore quello di dichiarare che abbiamo cambiato opinione perché tutto resta quindi il rapporto col tempo e con il pubblicato è un rapporto molto diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati dunque esistono tre gradi di correlazione questa è una cosa che è una mia sintesi ok una cosa che ho capito io non è che è una verità universale però io ho capito che di fatto attraverso questo lo sfruttamento di queste nuance di intensità di legame fra gli oggetti noi possiamo sostanzialmente avere tre grandi ambiti quelli in cui raccontiamo una storia ok quando raccontiamo una storia immaginate cappuccetto rosso come si racconta una cappuccetto rosso su web beh tu puoi avere il percorso nel bosco che è un interattivo perché beh si capisce molto meglio il discorso che il lupo fa prima perché passa da là cappuccetto ci mette di più lo vedi no? se te lo spiego a parole poi potrei avere se ce l'ho perché magari qualcuno stava al cellulare in quel momento nel bosco potrei avere l'audio del lupo che russava ah figo è molto meglio avere l'audio del lupo che russa piuttosto che dire il rumore del lupo che faceva ron ron si sentiva fino alla casa del cacciatore no? è più efficace quindi posso usare l'audio del cacciatore e poi ho un po' di testo che mi racconta il resto della storia questi tre elementi questi tre item insieme raccontano la storia se io tolgo l'audio del cacciatore non c'è più il testo che mi dice si sentiva ron ron dalla casa del cacciatore quindi questi tre elementi insieme io posso fare la cosiddetta prova del nove come la facevamo alle medie e dire se ne manca uno la storia è monca perché non si capisce più la storia di cappuccetto rosso ok allora se quando siete in presenza di questi item correlati così strettamente questi sono quelli di grado 1 che esprimono la storia per questo tipo di legame usate la cosa più forte che avete la compresenza per esempio mettere l'audio dentro il testo mettere il video dentro il testo mettere il percorso dentro il testo tenerli tutti insieme perché è la cosa più forte che potete fare non vi entrano è brutto non riuscite tecnicamente beh avete un'altra freccia al vostro arco fare in modo che l'audio la pagina dove si sente il ron ron linki al testo e viceversa perché sapete che questo comunque è un legame di intensità molto forte un po' meno della compresenza però non riuscivate ad avere un piccolo player che potevate infilare dentro il testo beh ok però avete un criterio guida per esprimere questa relazione poi ci sono quelli di grado 2 è facile riconoscerli perché se manca un elemento è il contesto che non si capisce per esempio altre storie che parlano di lupi altre storie del diciannovesimo secolo altre storie dei fratelli Grimm oppure potrebbero essere più raffinati i contesti altre storie che insegnano l'obbedienza ai bambini sto un po' inventando scusate se è un po' rozzo però ancora una volta il tipo di oggetti che voi mettete vicino alla storia di Cappuccetto Rosso e il titolo che gli date altre storie che parlano dell'obbedienza che insegnano l'obbedienza ai bambini di fatto fanno fare un percorso all'utente oppure gliene fanno fare un altro è un po' come dire il caso rubi è gossip oppure il caso rubi è prostituzione minorile e creano una rete di relazione di percorsi che l'utente può fare che servono a esprimere il vostro modo di contestualizzare questa storia e quindi ad esprimere la vostra identità per esempio in un boxino dove ci sono i titoli non solo degli altri articoli correlati ma appunto altre storie che insegnano l'obbedienza ai bambini grado 3 conduce ad altri contenuti della stessa classe cioè altre fiabe ok quindi non necessariamente sto esprimendo il contesto non necessariamente sto esprimendo la storia dunque un esempio pratico da adesso in poi diventerò sempre molto più pratico ho finito la parte teorica anzi vi ringrazio per la pazienza con cui mi avete e l'attenzione con cui mi avete ascoltato finora dunque questo esprime la correlazione di grado 1 cioè voi lo capite se vedete questa storia qua però io per progettare questo tipo di pagina ci ho messo un sacco di anni perché prima non era possibile embeddare si dice to embed i video dentro gli articoli a un certo punto abbiamo potuto farlo allora io ho detto ai miei colleghi ragazzi mi raccomando quando voi state raccontando il lancio di Samantha Cristoforetti nello spazio e avete il video del lancio l'intervista a Samantha Cristoforetti e il pezzo create un ecosistema fatto così perché quelle tre cose sono di grado 1 esprimono tutte e tre la storia se ne manca uno la storia monca bene queste sono le correlazioni di grado 2 altri articoli che ti servono a contestualizzare questa cosa se fosse il lancio nello spazio io potrei dire altri lanci di astronauti italiani allora tu capisci che Samantha Cristoforetti è la numero X di una serie non so qual è la seconda la terza la quarta astronauta italiana ad essere andata nello spazio quindi voi capite l'importanza di la prima donna cioè ricostruite il contesto e l'importanza relativa di questa storia poi ci sono quelli di grado 3 altre storie sullo spazio altre storie di tecnologia ok non esprimono né il contesto né la storia vedete come poi diventano pratiche le soluzioni poi possiamo discutere se sia efficace che questa correlazione sia messa sotto la volevamo anche sopra oppure il colore ci piace non ci piace ma intanto sta pagina è giusta poi possiamo migliorarla ma intanto è giusta no come dice il mio insegnante di composizione nel tempo libero scrivo colonne sonore dice noi siamo artigiani intanto facciamo che il tavolo stia in piedi e abbia quattro zampe poi lo possiamo cesellare ci possiamo fare un sacco di cose sopra dunque guardate addirittura quanta importanza hanno i link monodirezionali esterni come atto giornalistico sia il New York Times che il Guardian hanno messo in home page questo piccolo boxino piccolo per modo di dire è ironico c'è un enorme spazio che si chiama watching sul New York Times e what we are reading now sul Guardian dove mettono una lista di link a contenuti di altre testate concorrenti su cose che loro non erano in grado di coprire così bene perché si sono concentrati su altro ma fanno un servizio agli utenti dicendo guarda noi ti vogliamo spiegare le cose importanti di oggi e quindi includiamo anche queste quindi torna da noi perché non ti devi sbattere ad aprire Google a guardare 18 testate lo facciamo noi per te cioè guardate come ritorna il concetto quanto è euristicamente rilevante il concetto di grafo e del fatto di condurre a percorsi che è la selezione e la cura dei percorsi che diventa l'atto giornalistico primario in questo ecosistema dunque conseguenza 3 cambia il ruolo del menu se prima in un contesto che era il portale tu avevi una pagina che ti doveva portare dappertutto e quindi era un po' come sedersi al ristorante e farsi dare la carta che contempla tutto quello che lo chef è in grado di cucinare e adesso il menu può avere anche un'altra funzione potrebbe essere quello che all'estero si chiama il menu all'estero l'ho imparato perché ho una moglie svizzera e questa cosa mi è un po' scioccata all'inizio di come il menu cosa prendi il menu di come tutto il menu no il menu è una particolare sequenza fra antipasto primo secondo e contorno che quel giorno costa di meno rispetto al fatto che tu ordinassi ogni singolo piatto alla carte perché costa di meno ora potremmo fare i giornalisti e dire fuori di metafora costa di meno perché quel giorno lì quella cosa là secondo me era più importante poi possiamo fare i ristoratori perché a me stava a scadere la carne quindi quel giorno la magnate questo se no la devo buttare però in linea di massima è in entrambi i casi un fatto di rilevanza per loro è rilevante che quel giorno si elevano di mezzo la carne ok il fine è molto diverso però è anche questo è un percorso nel grafo di tutto ciò che loro sanno cucinare che chiamano menu e noi possiamo fare menu così io ho cominciato a fare per primo il menu così quello di le scienze come funziona questo menu qui la redazione può scrivere quello che gli pare e linkare quello che gli pare cioè il menu diventa la lista degli argomenti rilevanti oggi no ma dice ma sono tutti quelli che la redazione è in grado di seguire no se li vuoi vedere tutti clicca su tutti gli argomenti e te li vai a vedere c'è una lista molto più ampia ma oggi sono rilevanti questi perché vi voglio parlare di questo menu che poi poi l'ho fatto su D su National Geographic e alla fine anche su Repubblica lo vedete qua prima su motori poi su Repubblica ETI attualità ambiente sicurezza e adesso su Repubblica lo vedete qua maltempo BCE Lega Stato Islamico è un tipo di menu che per esempio su Repubblica convive con il menu classico perché perché le soluzioni che potete trovare i problemi se avete chiari i problemi e le funzioni che dovete assolvere sono tante sono diverse potete essere creativi nel trovare delle soluzioni l'importante è che sapete identificare quali sono i bisogni bene poi l'hanno fatto praticamente in contemporanea il mio omologo l'architetto di informazione del Paese del Guardian e dell'Huffington Post è stata una cosa strana la quarta e ultima conseguenza è che un sito dunque e con questo chiudo chiudo la prima parte si può considerare come un insieme di funzioni narrative e strutturali qual è la differenza? ragazzi questa è una concettualizzazione mia per cui non è così scritto lo sanno tutti eccetera io ve la propongo come quello che io ho capito con molta umiltà per cui se non vi funziona o trovate dei modi di migliorarla ditemelo io ne sono contento allora le funzioni narrative chiamo funzioni narrative quelle che abilitano la comprensione ok sono quelle di cui parlavamo prima quelle che si esprimono con la correlazione di grado 1 se sto esprimendo cioè se voglio farti capire una storia quelle di grado 2 se ti voglio far capire la relazione fra questa storia e il suo contesto e quelle di grado 3 che ti portano a classi di altri video si ma non parla della stessa storia si però sono altri video se ti piacciono i video puoi andare là quelle strutturali invece abilitano un'azione compra loggati sloggati commenta inviami un file manda una mail ok queste sono quelle strutturali ora perché è molto importante perché i 10 passi che vi spiego ora ci fermiamo ci prendiamo un caffè e poi cominciamo a fare la parte molto pratica su le 10 come proprio praticamente come si costruisce un sito nascono tutte dal concetto delle funzioni narrative strutturali cioè praticamente il modo per andare rapidi e per costruire un sito fatto bene rapidamente è quello di partire da questo concetto immaginarlo come il fatto che dobbiamo organizzare un set di funzioni narrative strutturali ora io ho capito questo grande mantra per evitare di fare stupidaggini una funzione un sito un sito deve avere una funzione sola primaria i siti del ma anche sono siti in cui non si capisce nulla un luogo siccome il tempo è infinito sulla rete lo spazio è infinito quanto è larga una pagina web quanto ci pare quanto è lunga quanto ci pare quante pagine possiamo pubblicare quante ce ne pare la riunione del mattino di un giornale comincia con un foglio dove c'è scritto quante pagine abbiamo oggi vi rendete conto di quanto è cambiato l'approccio tu hai tutte le pagine che vuoi dunque potresti essere assalito da un'improvvisa bulimia vuoi parlare di tutto vuoi fare tutto ma i tuoi redattori sempre dieci sono e quando succede questo tu ottieni dei siti che fanno un po' male tutto in cui non si capisce molto servono per comprare ma anche però per capire la notizia e diventa un macello anche proprio organizzare le informazioni all'interno di essi quindi una chiave del successo è un sito una funzione se siete capaci a fare due cose fate due siti secondo mantra della progettazione funzionale una funzione per ogni pagina questa pagina serve a capire una storia questa pagina serve a capire un fenomeno per esempio una pagina dedicata a non so un topic elezioni primarie americane questa pagina per esempio ecco a che serve la home page di Repubblica qual è la funzione si a capire quali sono le notizie giudicate più importanti ora che stanno accadendo ora ok quindi vedete che c'ha una funzione quella pagina poi ha delle sotto funzioni ok però voi capite immediatamente che c'è un mestiere quella pagina fa un mestiere e se cliccate e leggete un pezzo che mestiere fa quella pagina in quanto pagina racconta una storia una storia se ricercate qualcosa e avete una pagina come esito della vostra ricerca che funzione ha quella pagina farti vedere tutto quello che il sistema ha trovato su quello che tu hai cercato giusto quindi le funzioni sono tante ma l'importante è che siano univoche terzo mantra e ultimo una funzione per ogni zona della pagina per esempio nell'home page di Repubblica c'è un posto dove c'è scritto registrati loggati è chiaro che quello non sta partecipando della funzione principale della home page di Repubblica IT che è quella di dirti tutte le notizie importanti oggi ma è importante che ci sia perché quella pagina ha delle sotto funzioni che concorrono a questo grande sforzo di raccontarti le notizie più importanti oggi e probabilmente se tu ti registri io sarò in grado di darti delle notizie più adatte a te oppure sarò in grado di raccogliere i tuoi commenti giusto quindi in un certo senso è una sottofunzione anche se può sembrare così lontana è una sottofunzione di quella funzione primaria che è il racconto dell'oggi anche se quella è una funzione strutturale mentre il racconto dell'oggi è una funzione sostanzialmente narrativa ci fermiamo prendiamo un caffè e partiamo con la seconda parte ci rivediamo fra dieci minuti grazie 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 grazie